Visita d'eccezione all'Accademia Peligna. Si tratta dell'ex portiere della nazionale di calcio a 11 femminile, Carla Brunozzi, che ha incontrato i tecnici e le giocatrici della nuova realtà giovanile sulmonese, recandosi all'allenamento ai campi della parrocchia di San Giovanni Evangelista Sulmona. Ovviamente è soddisfatta quando ha la possibilità di conoscere queste realtà che valorizzano il calcio femminile. Assolutamente sì, sono soddisfatta perché nel momento in cui vedo le persone che credono nel settore femminile è ovviamente per me un motivo di orgoglio. Carla Brunozzi, nata a Torricella Sicura in provincia di Teramo, vanta ben 55 presenze in nazionale con una lunga esperienza in diversi club, tanto da meritarsi l'appellativo di Carla Batman Brunozzi. Interessante il dialogo con le ragazze sulmonesi perché la Brunozzi ha parlato della sua esperienza come calciatrice iniziata all'età di 10 anni nella squadra maschile del suo paese per finire successivamente nella primavera del Teramo Stazione e in Serie A con la Lazio. Sono stata sì in nazionale, ho giocato a calcio a 11 per tanti anni e all'inizio non è stata per niente facile perché sono dovuta andare contro a tanti pregiudizi. L'incontro con Carla Brunozzi è nato grazie all'amicizia con Gianna Nori, componente dello staff tecnico della squadra femminile dell'Accademia Peligna. Carla Brunozzi ha osservato la seduta di allenamento guidata dal tecnico Adel Moramunno, da Gianna Nori e dal preparatore dei portieri Sergio Ottoni. La squadra femminile dell'Accademia Peligna nasce con lo spirito di avvicinare quante più ragazze possibili al gioco del calcio. C'è passione, c'è determinazione da parte di queste ragazze come si sono avvicinate al calcio? Qualcuna quasi per caso e devo dire che questo gruppo composto da quasi 12 ragazze non ha saltato un allenamento fino ad oggi e lo vedo compatto. Carla Brunozzi ha colto l'occasione per augurare le migliori fortune alla nazionale femminile che impegnata nelle qualificazioni agli europei 2021, martedì sosterra un testa a Castellisangro contro Malta. Spero che questa nazionale possa portare in alto i nostri valori, che possa raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati per rendere ancora più visibile questo sport. Soddisfazione per la visita è stata espressa dai dirigenti dell'Accademia Peligna con il presidente Pietro Scudieri, il direttore generale Gino Bianchi e il direttore tecnico Joachim Spina. Il messaggio di Carla Brunozzi alle ragazze dell'Accademia Peligna è stato quello che bisogna sempre credere nel raggiungimento degli obiettivi. Se la passione vi spinge ad andare contro tutto e tutti, i sogni si devono essere. Noi siamo l'Accademia! Un abbraccio.